Buongiorno a tutti. Forniamo il consueto bollettino con le principali notizie rispetto alle attività organizzative dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena in riferimento all'infezione Covid-19, attuata in stretta e costante sinergia con l'azienda AS di Modena nell'ottica di garantire un'azione di sistema. La situazione per i ricoveri dei casi sospetti ed accertati. Come si può vedere dal grafico, da due o tre giorni si nota un tendenziale appiattimento della curva relativa ai ricoveri in degenza ordinaria, colore blu, e in terapia intensiva, colore rosso, che ci fa essere moderatamente ottimisti confermando l'efficacia delle misure di isolamento sociale finora attuate. La situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in azienda ospedaliera universitaria 282 pazienti Covid-19 positivi, 116 all'ospedale civile e 166 al policlinico. Di questi sono in terapia intensiva 59 pazienti, dei quali 27 nella terapia intensiva del Policlinico di Modena e 32 presso l'ospedale civile e 16 in subintensiva, distribuiti tra i due ospedali. In degenza ordinaria sono seguiti 207 pazienti, 75 pazienti all'ospedale civile di Baggiovara e 132 al Policlinico. Vi comunichiamo inoltre che è stata attivata la presa in carico dei dipendenti risultati positivi al tampone attualmente a domicilio, sia sintomatici che asintomatici. Il percorso comprende un assiduo contatto effettuato da personale specificamente formato al fine di monitorare l'evoluzione delle condizioni cliniche e gestire eventualmente le modalità di rientro in servizio.